a mio modo di vedere esistono tre tipi di esseri umani quelli che non hanno sogni a cui la vita va bene così com'è quelli che hanno dei sogni vaghi o sfumati ma non possono non sanno fare in modo di avverarli perché neanche loro comprendono bene l'entità di ciò che desidera il proprio cuore altri forse i più testardi comprendono così bene i propri sogni da sapere chiaramente cosa fare così da diventare capaci di andare al di là di ogni impedimento di ogni limite reale o apparente che si frappone tra sé e il proprio sogno grazie a tutti